Girls vs Boys è per un pubblico di ragazzi dai 12 ai 15 anni. Ovviamente chi lo legge si rende conto che in realtà anche i genitori possono leggerlo tranquillamente perché tratta di temi molto particolari, quali ovviamente le differenze di genere e il desiderio di una ragazza di diventare calciatrice che viene osteggiato dalla sua famiglia d'origine e serve per far capire anche che molto spesso sono proprio i genitori e la famiglia che hanno in qualche modo dei pregiudizi e pongono degli ostacoli davanti alla carriera dei propri figli. È un libro molto moderno, infatti i ragazzi parlano come noi, parlano ai giovani e ai ragazzi di adesso utilizzano tutti i mezzi che i ragazzi di oggi usano per conoscersi meglio e ovviamente c'è tanto sport, tanta competizione, un po' di ambizione e soprattutto c'è la ricerca di raccontare dei personaggi che siano davvero vicini ai ragazzi di adesso. Devo essere sincera, il fatto di essere cresciuta con un certo tipo di cartoni animati mi sono reso conto che mi ha aiutato anche per il linguaggio perché non è facile, io seguo il calcio ma non sono una di quelle fanatiche quindi Oli e Benji alla fine ha funzionato. Allora il libro è pubblicato da Inaudi Edizione L e Inaudi Ragazzi si trova in tutte le librerie e ovviamente anche gli store online.